Cari amici, un canale di servizio completamente gratuito, basato sul volontariato come il mio, può permettersi alcuni piccoli lussi come quelli di promuovere contenuti altrui che comunque sono particolarmente centrati in sintonia con il mio pensiero. Oltretutto io ho parlato spesso e volentieri di queste tematiche, della truffa del denaro fiat, del nuovo mondo che va a delinearsi, del fatto che la Russia non è assolutamente sola e isolata come certi cialtroni nostrani si ostinano a volerci fare credere. E quindi vi leggo volentieri queste parole. Non avere contezza di quello che accadrà il 22 ottobre, 2024, aggiungo io, data prossima, è la conferma di come l'informazione in Italia, o per meglio dire in tutto l'Occidente, sia corrotta e manipolatrice, sottoscrivibile al mille per mille, soprattutto in quella che dovrebbe essere l'alternativa al mainstream, perché siamo stati comunque pochi a parlare di dedollarizzazione e di ciò che sta succedendo. Il 22 ottobre si raduneranno a Kazan, in Russia, 159, dice sì, 159, 159, caro mio avvocato Catania, non so se mi spiego, 159, risottolineo, 159 paesi del mondo, che, tra le altre cose molto importanti che riguardano accordi commerciali e militari all'interno dei BRICS, ratificheranno una nuova moneta di scambio, che riguarderà tre quarti del mondo, caro il mio amico avvonato Catania. Una nuova moneta di scambio che riguarderà tre quarti del mondo, sottolineo, e segnerà inevitabilmente l'inizio di una nuova epoca mondiale, a cui nessuno potrà più opporsi. Moneta ancorata all'economia reale, non fiat, che farà uscire dal dollaro e quindi dalla secolare dipendenza dalla moneta truffa, FIA, di matrice, scudo rosso, Rothschild. Tutto il pianeta, tutta la disperazione e le notizie che arrivano oggi riguardo a guerre, attentati, eccetera, riguardano questa scadenza. Tutta la geopolitica delle cannoniere inglesi, iniziata con la compagnia delle Indie, e che finora ha comandato attraverso la colonia americana, sta naufragando navi e cannoni. Tutto sottoscrivibile, tutto detto magistralmente, e quindi ho ritenuto giusto riproporre queste parole sul mio canale, non dimenticando però l'autore, ringraziando l'autore Luca Alberici. Grazie per queste parole molto chiare a Luca Alberici. Per il resto vi invito a iscrivermi al mio canale, ma soprattutto a farmi sapere cosa ne pensate, a commentare, commentare, commentare. E quindi scrivete due parole su cosa ne pensate, perché ormai è sempre più importante il rapporto, diciamo, anche se mediato da tecnologia personale e l'interscambio, avere un feedback e instaurare un dialogo con i miei followers e con i miei amici virtuali, molti dei quali ho conosciuto anche di persona. Quindi non tanto io che faccio i video, voi che ascoltate, questo naturalmente mi fa molto piacere, ma per quanto possibile, per quanto ci consente la tecnologia, scrivete e cerchiamo di avere un dialogo interattivo e di interagire sempre più. Grazie di tutto e alla prossima. 22 ottobre ci siamo. E tutto quel popò di cose anche inspiegabili, avvenimenti anche apparentemente inspiegabili, che si sono verificati, che si stanno verificando e che si verificheranno a breve, perché non ci sarà giorno di pace, giorno di tranquillità, ma sono tutti legati e motivati strettissimamente a questa scadenza e alla prossima scadenza, altrettanto vicina ormai, perché ci siamo davvero delle elezioni presidenziali USA.